Caral Sipario, su questa 27esima edizione del Festival Internazionale Castel dei Mondi, il suo commento come sindaco e cittadino? La direzione artistica mi ha consegnato dei numeri assolutamente interessanti che ci hanno anche dato la possibilità di accostare questa edizione del Festival ad alcune passate in cui il Festival viveva un grande fasto. Questo ci fa piacere perché nonostante le risorse siano notevolmente ridimensionate, nonostante una serie di problemi, avere questi numeri così importanti significa che la scelta che abbiamo fatto anche della conferma della direzione artistica è andata nella direzione giusta. Da cittadino e da sindaco sono anche contenta di aver avuto la possibilità attraverso il Festival di misurarmi concretamente, di far misurare tanta gente concretamente con quelli che sono tanti aspetti del nostro tempo perché l'arte e lo spettacolo servono anche a questo. Abbiamo visto delle sperimentazioni inaudite che non immaginavamo potessero esistere nell'ambito dello spettacolo, del teatro, delle arti in genere. Abbiamo pensato che alcune situazioni in cui tutto il nostro tempo è immerso possono avere una chiave di lettura diversa proprio attraverso la cultura che per noi significa elevare una società, elevare anche la socialità di una comunità. Un Festival qualifica anche una città nelle scelte culturali che la stessa fa. Il Festival ha delle caratteristiche particolari sia dal punto di vista dell'organizzazione sia dal punto di vista anche delle valutazioni artistiche. Io credo che questo Festival sia stato assolutamente di qualità e ci spinge a fare ancora meglio e ancora di più. Direttore, come si misura il valore di un Festival? Il valore di un Festival ha diversi approcci. Può essere uno abbastanza banale, mercantile, legato alla quantità dei biglietti staccati, agli incassi, agli alberghi, ai ristoranti, agli spritz utilizzati in più rispetto al Festival. Da questo punto di vista posso solo dire che per quanto riguarda l'aspetto generale c'è un ritorno sul territorio di un valore importante. Poi c'è un altro valore che può essere analizzato, che è un po' più complesso, un po' più profondo, che è quello sulla qualità della vita che viene affrontata da una visione del Festival. In questa edizione si è vista una centilla. Siamo riusciti a far staccare gli occhi dagli smartphone alle persone e a farle girare per l'intero centro storico guardando le installazioni, guardando gli spettacoli, conversando tra loro, discutendo, dibattendo, arrabbiandosi anche tra di loro per discutere di alcuni spettacoli o di alcune installazioni tipo questa del Golem in piazza. Ed è questa la funzione, diciamo, vitale di un Festival in una città che purtroppo vive un'esperienza abbastanza negativa, che è quella del livello di povertà educativa che è agli altissimi livelli.